Proveremo a fare, a limitare i danni il più possibile perché stiamo andando su nuovi mercati, sui mercati emergenti, proveremo a recuperare quelle sacche di export, però la preoccupazione c'è perché siamo davvero dispiaciuti, non solo per quello che è avvenuto, ma per il lavoro che si era fatto negli anni, di conoscenza dell'agroalimentare pugliese, della sua qualità e anche della poliedricità, delle azioni messe in campo. Si dice preoccupato per le esportazioni, l'assessore regionale all'agricoltura donato Pentasuglia all'indomani dell'inizio della guerra in Ucraina. I settori pugliesi a maggiore rischio sono quelli dei cereali e quello relativo ai prodotti per l'allevamento. La preoccupazione nasce dal fatto che ci sono forti legami commerciali che legano la Russia alla nostra regione. Un embargo può determinare a catena processi che possono avere uno sviluppo negativo sul comparto. Le navi dal porto di Bari ai noi sono andate via, due navi non hanno potuto scaricare, mentre una abbiamo scaricato una parte del prodotto e quindi abbiamo rischiato davvero per il sistema di allevamento e quello relativo ai cereali per la loro trasformazione di non avere prodotto. Quindi è un tema questo che impatta sulle attività della nostra regione. La diplomazia intervenga fin dove è possibile affinché davvero non si piangano perdite importanti perché significa riduzione di posti di lavoro, addirittura la mancanza di materia prima per gli allevamenti pugliesi.